Le persone che mi piacciono meno in assoluto sono quelle che parlano male di un servizio senza conoscerlo, per partito preso, senza averlo provato in prima persona. Mentre quando si ha esperienza diretta si può dare una visione agli altri, un consiglio anche agli altri, il più equilibrato possibile, il più intellettualmente onesto possibile, se si è delle persone oneste. E se no si possono fare anche dei danni. In questa chiacchierata voglio parlarti dei robot advisor. Perché? Perché io ho esperienza personale con i robot advisor e ritengo che se tu vuoi investire nei mercati finanziari, questa scelta, la scelta di affidarti ad un robot advisor, può essere interessante o meno, può essere vincente o perdente, utile o un errore, a seconda della tua situazione. Ok? Se mi dedichi 10 minuti del tuo tempo, provo a darti il quadro più completo e più onesto che dal mio punto di vista posso darti. Ok? E ti parlerò di Money Farm. Perché di Money Farm? Non perché io ho un contratto con loro e vengo pagato per parlarti di loro, ma perché io lo utilizzo. Ho scelto alcuni anni fa di utilizzarlo e quindi negli anni ho capito quali sono i pro e quali sono i contro. E quindi per evitarti di fare un errore e sottoscrivere un investimento con loro in una situazione la tua che potrebbe essere sconveniente, oppure di fare la scelta giusta, ecco, per aiutarti a fare la scelta giusta, voglio darti una visione che sia completa. Voglio darti tre contro e tre pro di investire con un robot advisor, di investire con Money Farm. Poi ce ne sono anche altri che sono simili, ma io ho questa esperienza qua e ti parlo di loro. Tra l'altro ti lascio qui sotto un link che se poi alla fine di questa chiacchierata scegli di utilizzare il loro servizio, se ti iscrivi tramite questo link, prendi pure uno sconto, uno sconto sulle commissioni che loro prendono sul tuo investimento, chiaramente. Ovviamente lo sconto lo prendo anch'io e quindi anch'io ho un vantaggio. Ma, ci tengo a dirlo, non voglio convincerti ad utilizzare questo servizio, voglio darti dei pro e dei contro in modo tale che tu possa scegliere in modo, come dire, intelligente se ti conviene o meno utilizzarli. Allora, prima cosa, che cosa sono i robot advisor, cioè che cos'è Money Farm? È un modo di investire i soldi per cui tu dai a loro i tuoi soldi e loro te li gestiscono, ok? Come te li gestiscono? Creano un fondo di investimento. Che cos'è un fondo di investimento? È un insieme di ETF, che a loro volta sono un insieme di azioni o obbligazioni, che coprono generalmente una larga fetta di mercato, anche tutto il mondo, ok? Quando tu investi in banca o quando tu investi fai-da-te, che sono le due alternative, banca, robot advisor che si mette in mezzo e fai-da-te, per dei motivi che adesso ti spiego, fai la stessa cosa. La banca crea un fondo di investimento e tu ci metti i soldi, Money Farm crea un fondo di investimento e tu ci metti i soldi, nel fai-da-te tu non fai altro che crearti un tuo fondo di investimento e metterci i soldi. Alla fine sempre di ETF si parla, magari c'è qualche buono del tesoro, magari c'è qualche azione singola, magari c'è qualche ETC sull'oro, sulle materie prime, per carità, ma sempre quello è, ok? Quindi non è che investire in banca, investire in Money Farm o investire fai-da-te abbia delle grandi differenze, è sempre un fondo di investimento fai, ok? Qual è la differenza? La differenza è che in banca generalmente i costi sono elevati, Money Farm si mette a metà, e tenta di avere dei costi che sono più contenuti, non contenutissimi, lo vedremo, ma più contenuti, il fai-da-te è quello che ti permette di avere i costi più bassi in assoluto. E i costi in un investimento incidono in maniera importante, se tu investi 100.000 euro e ogni anno ti tirano giù il 4%, dopo 10 anni, 15 anni, 20 anni, insomma, li hanno lasciati di soldi al gestore del fondo, tanti anche. Quindi contenere i costi negli investimenti sul lungo periodo è fondamentale. Allora, vediamo un po' quali sono i pro e i contro. Partiamo dai contro e poi facciamo i pro, 3 contro e 3 pro, di utilizzare un robot advisor come Money Farm per investire. Allora, primo contro, i costi sono più elevati del fai-da-te, cioè Money Farm ti chiede generalmente da un 1% di costi annui sul patrimonio che investi a scalare in base a quanto stai investendo, quindi 1%, se non ricordo male, fino a una certa soglia di investimento, 0,75% sotto un'altra soglia, 0,5% sopra un'altra soglia. Dipende. I costi, a questi costi vanno aggiunti i costi degli ETF che loro comprano, ok? Naturalmente questi costi non li avresti se ti comprassi i tuoi ETF da solo tramite un broker. Cosa che tra l'altro io faccio, perché io ho anche degli investimenti fai-da-te, ok? Ossia robot advisor che investimenti fai-da-te, proprio perché voglio darti una visione che sia la più completa e razionale possibile. Quando tu investi fai-da-te, paghi i costi degli ETF e basta. E quindi i costi degli ETF vanno da uno 0,075% sul patrimonio investito fino ad un massimo generalmente degli strumenti che sono interessanti di uno 0,4%, ok? A questi costi, se utilizzi Manifam, che è un intermediario che compra per te gli ETF, ci devi aggiungere da un 1% in giù, 0,75-0,5 in più, semplicemente perché loro si mettono in mezzo, ok? Quindi questo è un contro, è un contro, ok? Se investissi, scusate, da solo, spenderesti molto meno. Il secondo contro è che loro ti fanno una sorta di check-up iniziale, cioè cercano di capire che tipo di investitore sei e ti creano un profilo e quindi poi ti fanno per te un investimento, che non è completamente customizzato, ma è tra i vari tipi di portafogli che hanno già a disposizione. Questa cosa va bene, però il contro è che questi consulenti finanziari, che poi ti seguono anche perché oltre a compilare tu un questionario iniziale, vieni anche seguito per una mezz'oretta, di un'oretta con un consulente, a seguito di questo lavoro iniziale che fanno su di te per capire che tipo di investitore sei, generalmente poi non ti contattano più, o comunque raramente ti scrivono, e ho visto nella mia esperienza, ti scrivono o ti contattano per chiederti di investire ancora soldi, ma non per fare un check della tua situazione, di com'è cambiata nei mesi, se hai migliorata, se hai peggiorata, se hai cambiato le tue aspettative, eccetera, quindi il portafoglio deve essere cambiato in qualche modo. Quindi questo è un po' un contro perché mi aspetterei dai loro consulenti finanziari di essere seguito in maniera un po' più attenta, ok? Terzo contro è che non hai un pieno controllo su quali ETF ci sono all'interno del tuo portafoglio, cioè loro scegliono per te quali ETF comprare, ne comprano, da mia esperienza personale ho visto che ti creano un portafoglio che contiene dai 10 ai 15 ETF in base al tipo di investimento che fai, ad esempio io ho un investimento che è molto green, diciamo così, e quindi ho più ETF perché per coprire in modo green tutto il mondo ho bisogno di metterci più strumenti, quindi ho costi un po' più elevati, ma non posso scegliere, non posso dirgli toglimi questo, mettimi quello, hanno dei portafogli standard e hanno una gestione che in parte è attiva, cosa che non mi piace tantissimo perché, diciamo, la storia ha dimostrato che le gestioni totalmente passive sono meglio delle gestioni attive, cioè compri quegli ETF e te li tieni per sempre, va meglio di solito che comprare degli ETF e ogni tanto fare dei piccoli cagnamenti, loro ogni tanto fanno dei piccoli cagnamenti, chiaramente chi sono io per dire che non devono farlo, però la storia ha dimostrato che in generale gli investimenti completamente passivi sono un po' meglio, vanno un po' meglio di quelli attivi. Anche se la loro gestione attiva è minimale perché fanno un cambiamento ogni 8 mesi, 9 mesi, non cambiano le cose nel tuo portafoglio ogni giorno, ogni settimana, ok? Questi sono i tre contro più grossi che io ho trovato nella mia esperienza personale. Quali sono i tre pro? I tre pro sono che costano meno delle banche, perché le banche oltre ad un costo annuale che non è così basso come quello di Manifarm, ma spesso e volentieri è un costo intorno al 3%, applicano tante volte anche dei costi di ingresso, quindi tu investi in banca, subito ti portano via un 3%, ho visto anche un 5% in alcuni casi, così per partito preso te lo portano via i soldi, se li intascano e poi ogni anno ti decurtano il patrimonio di un 3%, che sulla lunga distanza fa tanto la differenza, ok? Ci sono molte simulazioni che dimostrano che veramente gli lasci tanti soldi alle banche. Quindi il pro è che ti costa un po' di meno, ho detto non tanto di meno, ma sensibilmente di meno. L'altro pro è che in generale, diciamo, quando ci sono i momenti di mercato difficili, quindi il mercato crolla, va tutto male, c'è la pandemia, l'azionario va giù di un 20-25%, tu non puoi vendere i tuoi etf, così, come faresti se li avessi comprati da solo tramite un broker. Perché? Perché loro ti fanno da intermediario e quindi evitano che tu ti faccia prendere dal panico e venda tutto. Alzi la cornetta, li contatti, fai una consulenza con loro e loro ti rassicurano, ti dicono guarda che il mercato è ciclico, guarda che crolla sempre, poi torna a salire, non ti fa prendere dal panico, tieni duro perché è così, perché questa è la verità tra l'altro, ok? E quindi ti evitano di essere preda delle emozioni e di disinvestire, oppure preda dell'euforia, di mettere dentro un sacco di soldi degli investimenti quando le cose vanno bene, che sono gli olori più grandi generalmente, più comuni che compiono gli investitori improvvisati. Il terzo pro è che è vero che tu hai un costo con loro, ma all'interno di questo costo c'è un consulente finanziario che ti segue. Cioè, se da un lato, come dicevo prima, nei contro, i consulenti finanziari dovrebbero essere a di mani, dovrebbero essere un po' più proattivi e romperti loro un po' le scatole, ecco, se tu fai il rompiscatole, gli scrivi, li chiami e prendi degli appuntamenti con loro, gli appuntamenti te li danno, non dico che te ne danno quanti ne vuoi tu, però ogni sotto puoi chiamarli. E quindi, quando tu investi, fai da te, e ti paghi un consulente finanziario esterno, lo paghi mediamente, diciamo, ho visto un po' di costi, dall'1% allo 0,6%, ok? Quelli un po' più costosi li paghi l'1%, quelli un po' più economici, consulenti finanziari indipendenti, li paghi lo 0,6%. Compreso nel costo di mani, nella gestione degli ETF, della tua gestione semiattiva, di tutto l'ambaradam, del software, delle app che ti danno, c'hai il consulente finanziario, quindi quello è un risparmio, tra virgolette, che puoi avere, e, ripeto, se tu sei un rompiballe, tra virgolette un rompiballe, e li chiami, li senti, cerchi di organizzare con loro, vuoi farti fare un controllo della tua situazione economica, chiedere se ti conviene investire ancora, se ti conviene desinvestire, eccetera, loro rispondono, puoi prendere degli appuntamenti, e non paghi extra questa cosa, quindi questo è un altro pro. Benissimo, spero di averti dato tre pro e tre contro di quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi di operare con un robot advisor dalla mia esperienza personale, da quello che io ho capito in questi anni. Come vedi, non ho risparmiato né critiche né elogi, e ti ho dato una visione che, secondo me, è la visione più equilibrata che puoi trovare. Sfido chiunque a smentirmi su quello che ho detto, perché chiunque abbia un'esperienza personale in merito, perché, diciamo, così è esattamente come funziona, e secondo me, quelli che ti ho elencato, sono i sei punti sui quali puoi prendere una decisione intelligente, se avvalerti o meno di questi sistemi. Ok? Non è detto che sia la scelta giusta per te, magari sei abbastanza formato, dal punto di vista degli investimenti, da investire da solo. Cosa che io faccio con una parte dei miei soldi, ma mi tengo anche loro perché mi aiuta, ecco, ad avere un po' un supporto anche morale, per vedere un po' quello che fanno nei momenti di difficoltà, oppure, no, oppure per te magari è davvero la scelta giusta, perché non vuoi preoccuparti di questa cosa, nella vita vuoi fare altro, non vuoi preoccuparti degli investimenti, vuoi dei professionisti che gestiscano i tuoi investimenti, che però non abbiano dei costi così elevati come quelli che hanno le banche. Grazie. Grazie.